Un patrimonio inestimabile, veri gioielli, molti dei quali ancora da scoprire. Il primo verrà svelato la prossima settimana in un concerto aperto al pubblico. L'archivio musicale del Duomo di Como custodisce brani e opere antiche che grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Como potranno rinascere. Il primo lavoro di riscoperta e valorizzazione, iniziato nel 2013, verrà proposto il prossimo 3 giugno alle 21 in Cattedrale. L'ultimo incontro per l'annuale iniziativa Memoria Cattedrale scontempla infatti il concerto del gruppo vocale Concentus Vocis che eseguirà armonia ecclesiastica di Sisto Reina, maestro di musica saronno vissuto tra il 1619 e il 1664 sotto la direzione del maestro Michelangelo Gabrielli. È stato un lavoro basato su un'edizione a stampa che è stata pubblicata dal Centro Studi Antoniani e rientra in una collana di musicisti francescani. Però certamente è stato necessario un profondo lavoro di revisione basato proprio sull'osservazione diretta delle stampe originali di queste musiche. È stato fatto un lavoro di trascrizione, è stata fatta da chi dirigerà il concerto e lo concerterà in tutti gli effetti, un lavoro di revisione degli originali, di controllo, di verifica delle note, di controllo del testo nei confronti delle note. È stato fatto un grosso lavoro di recupero a tutti i livelli che poi ha portato alla scelta esecutiva che ovviamente il direttore porta dal suo punto. Coinvolto dal maestro Gabrielli sono stato il continuista che eseguirà questa parte di accompagnamento strumentale all'organo con le voci dei ragazzi del Concento Svocum. La serata del 3 giugno apre dunque una serie di iniziative attuate in collaborazione con il Conservatorio di Como, denominata in coro et organo i suoni della cattedrale, che punta proprio a recuperare e riproporre musiche antiche custodite nell'archivio musicale del Duomo, che al suo interno contiene, per fare due esempi celebri, opere di Monteverdi e Giovanni Pierluigi da Palestrina. I maestri di cappella durante il loro incarico erano tenuti da contratto a produrre una serie di brani per l'esecuzione, per le celebrazioni del vescovo, della cattedrale. Quindi il fatto che il Conservatorio valorizzi questo patrimonio per noi è molto importante. E qui l'altro aspetto appunto per mantenere viva la memoria della cattedrale e farla conoscere alla città che non sempre ha consapevolezza adeguata del patrimonio, non solo quello che si vede ma anche quello che si può sentire.